Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video make up perché sto facendo un video in collaborazione con il gruppo di Telegram capitanato da Fabiana Lizzi, quindi vi metterò il link di Fabiana. Per quanto riguarda il make up di San Valentino, ovviamente ci avviciniamo a questo giorno e quindi volevamo fare un trucco proprio per questa occasione. Ovviamente oltre me e Fabiana ci saranno anche altre ragazze che partecipano e sono molto molto contenta perché il gruppo si sta facendo più numeroso e questa cosa mi rende molto felice. Allora, io ho appena messo il lip oil di Wicon sulle labbra e ho messo il correttore su tutto l'occhio e l'ho sfumato con la blender piccolina. Adesso metterò l'ombretto al solito. I passaggi su per giù sono sempre gli stessi, lo sapete tutti, io utilizzo sempre le stesse cose. Mi piace non utilizzare sempre le stesse cose, però se mi trovo bene con determinati prodotti preferisco utilizzarli. Oggi faremo un trucco proprio per quanto riguarda San Valentino. C'è chi festeggerà, c'è chi non festeggerà, nel senso chi è sposato, fidanzato eccetera eccetera e c'è chi invece non ha nessuno. Però questo non significa niente, è una festa. Per me è una festa per spendere soldi, nel senso per i fiorai che fanno queste cose ma siccome a me i fiori non piacciono, quindi poi sono in dieta, quindi niente i cioccolatini quindi quest'anno mio marito risparmia alla grande. Allora adesso andremo a prendere questo ombretto di Nabla. Utilizzerò forse la maggior parte degli ombretti di Nabla. Quindi perché non utilizzare anche i pennelli? Andremo a prendere questo pennello e utilizzerò questo ombretto, questo qua. E niente, che dire, a me piace come festa, a me piace qualsiasi tipo di festa, cioè basta che si festeggia per me va bene lo stesso. L'unica cosa è ovvio che per quanto riguarda San Valentino, la festa delle donne, sono delle feste che, diciamo, la priorità ce l'hanno chi vende oggetti, diciamo, dell'occasione come tipo pupazzetti, queste cose qua. Io ormai per il pupazzetto ormai sono datata, avendo anche 40 anni, sono datata, ma anche se mi piacciono sinceramente. Per quanto vi stavo dicendo, per quanto riguarda i fiori, a me non piacciono. Non mi piace proprio ricevere fiori, piante o quello che è. Cioccolatini sono a dieta, quindi non ne posso mangiare. Quindi quest'anno si risparmia alla grande, ma anche gli altri anni io non sono una persona che... Oh mio Dio, mi stava cadendo la palatena. Io non sono una persona che chiede qualcosa, se una cosa mi piace io me la compro automaticamente. Non è per male, ah. Cioè, a me sì, piacciono queste feste, queste cose che... Queste feste comandate, tra virgolette. Però se una cosa mi piace non è che dice per forza ci deve essere la festa delle donne oppure San Valentino. Questo non mi interessa sinceramente. Mi vedete i capelli lisci, ma dopo vedrete che li faremo ricci. Li faremo o no, li farò da sola. Non riprenderò perché la mia amica, perché me li fa la mia amica, non vuole essere ripresa. Quindi non riprenderò. Però me li farà lei. Adesso andremo a prendere un colore un po' più forte. E lo prenderò dalla Poison Garden. E prenderò esattamente Berry Bite. Questo colore qua. Perché è abbastanza fucsia, è abbastanza forte come colore. E lo andremo a mettere... Dove sono gli altri pennelli? Pennelli, pennelli, pennelli. E andiamo a prendere Berry Bite. Lo metteremo proprio al di sopra per evidenziare questa parte. Applicatelo tamponando, proprio tamponando. E poi lo andremo a sfumare. Questa tattica è presa, ovviamente non da me perché io non so nessuno, da Karmi Mue. Karmi Mue. Mi piace tantissimo. Mi piace che spiega anche quello che dovete fare. Quindi mi piace come persona. Lui dice di tamburellare la parte. Quindi piano piano tamburellate. E poi andrete a sfumare. E io sfumerò sempre con lo stesso pennello di poco fa. Mi piace il fatto di meschiare questi colori. Per fare una parte un po' più scura andrò a prendere questo ombretto di Catrice. Che è un malva scuro che dà sul viola. E questo è il numero 03, Berry Tail. E lo vado a mettere con un pennellino più stretto. Mi servirebbe. Questo qui di Wicon. Proprio da mettere qua. No, questo pennello non mi viene bene. Utilizzerò questo qui di Nabla sempre. Lo voglio mettere proprio in questa posizione. Per scurire questa parte. E farlo rientrare. Non so se mi spiego. Questo è molto più scuro come ombretto. Quindi verrà meglio la transizione. E per far vedere questa parte un po' più scura. Non so che si vede. Avevo un'idea per quanto riguarda il make up. Poi ovviamente faccio tutt'altro. Non so se vi capita anche a voi. Di pensare a un make up in particolare. E poi fare tutto tranne quello. Ovviamente lo porto anche da questa parte. E lo congiungo così. Facendo questo movimento. Adesso andremo a mettere un color panna. Sotto l'arcata sopraccigliare. Ovviamente. Perché l'ombretto panna non deve mai. Mai, 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 mai mancare. E quindi a proposito di questa collaborazione. Per quanto riguarda San Valentino. Non vi saprei dire sinceramente come passerò. Se uscirò o non uscirò. Perché ovviamente non lo so. Io gli altri anni l'ho passato sempre in famiglia. Molto spesso lo passo anche con mia sorella. Perché col fatto che mio cognato è lontano per lavoro e tutto. Quindi molto spesso capita che passiamo la giornata insieme. Per non farla stare da sola. Oppure anche con i miei genitori. Capita spesso che noi ci riuniamo. E diciamo stiamo insieme tutti insieme. E passiamo questa giornata. Adesso voglio mettere un punto luce. E lì è quella che è. Il mio punto. Voglio vedere cosa mettere. Allora sinceramente vorrei mettere Sensuel. Proprio. Quindi credo che metterò un altro po' di correttore. Questa volta lo metto sulla mano. E prenderò un pennellino piccolo. Molto più piccolo. E aggiungo proprio al centro della mia palpebra. E niente. Quindi credo che passeremo le giornate come le altre volte. E ora andremo a mettere Sensuel. Mi piace. Aggiungo un altro po' dell'ombretto di Catrice. Per scurire la parte. Perché voglio proprio un piccolo 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 punto luce. Non voglio una cosa troppo esagerata. Non mi piace così come è venuto. Va bene. E questi sono gli occhi. Adesso andremo a fare. Piegiamo le ciglia. Se trovo il piegaciglia. Ovviamente. Dove ho messo il piegaciglia? Eccolo qua. Allora. Piegiamo le ciglia. Metterò fondotinta, cipria e tutto. E noi ci vediamo dopo. Ciao. Vado a mettere la Velvet Line di Nabla. Nella colorazione Romanticized. Quindi si può non mettere questa matita il giorno di San Valentino? E poi ovviamente mettiamo la tinta sempre Romanticized Nabla. Allora. Per quanto riguarda il video della collaborazione. con Fabiana e le altre ragazze di Telegram. Io ho finito. Ovviamente vi metterò il link di tutte le ragazze che hanno collaborato. Vi metterò anche il link per entrare a far parte del mondo di Telegram. quindi vedrete le nostre cose, tutto quello che noi pubblicamo ogni giorno sul gruppo e tutto. Niente. Non sono riuscita a fare i capelli perché sono andata, in poche parole, si era spenta la fotocamera. Quindi io nel frattempo sono andata a prendere il caffè da mia mamma. Non so se si vede, ho il segno degli occhiali perché ovviamente portandoli si vede il segno. Niente, mi è piaciuto tantissimo questo make up, ho messo, ho preso il caffè, ho mangiato anche le noccioline perché io posso mangiare 10 noccioline in base alla dieta che sto facendo. E niente, non si è tolto per niente, nel rossetto non è niente, però ovviamente avendo messo un lipgloss in automatico nella tazza c'era il bordino macchiato con le mie lambre. Per quanto riguarda il video, io ho finito. Vi auguro di passare un bellissimo San Valentino con le persone che amate. Io vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!